Non hanno bucato l'anteprima di playoff, al contrario i Rockets hanno travolto i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari che a fine gara firma 16 punti. Per Houston, solito eroe della serata, James Harden con 31 punti a referto, seguito da Chris Paul nei panni dell'ex con 29 di bottino personale. Coach D'Antoni mette in campo allo Staples Center un quintetto di pirati con clean capella, 24 punti e 15 rimbalzi in funzione intimidatoria nell'area colorata. Houston, alla quarta vittoria di fila, è in lotta per il terzo posto nella conference con Portland. A Est, primo posto ancora in palio con Toronto che rimane a due gare e mezzo da Milwaukee dopo il successo per 115 a 105 su Brooklyn. Si a Cam e Leonard, top players con 54 punti in due, i Raptors devono vincere le ultime tre gare per eguagliare il record di vittorie della scorsa stagione.